No, no, il 24 si comincia. Abbiamo rinviato di dieci giorni per ragioni molto semplici. Nessun ulteriore rinvio, le scuole in Campania riapriranno il 24 settembre. Lo ha ribadito anche oggi il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di un incontro per presentare i lavori di riqualificazione della zona industriale di Salerno. In merito ad alcune voci circolate nelle ultime ore che avrebbero rinviato al 28 settembre il suono della prima campanella in Campania, il presidente De Luca ha invece confermato che il 24 settembre le scuole riapriranno. Il rinvio, ha ricordato De Luca, è stato giustificato dalla necessità di effettuare i test che in Campania sono diventati obbligatori per tutto il personale ed anche il ritardo registrato nella consegna dei banchi. Intanto la regione Campania in questione è impegnata anche per acquistare termoscanner e pistole utili a rilevare la temperatura, ma il presidente De Luca ha annunciato di essere al lavoro con i centri di ricerca della regione per studiare un test rapido da utilizzare sugli studenti. C'è un nostro istituto di ricerca, università, regione, il CENGE, che sta studiando da mesi un test salivare, cioè un test che consentirebbe di individuare la positività al Covid con la saliva. Non abbiamo ancora completato le sperimentazioni. Questo ci potrebbe consentire di fare anche i test ai ragazzi. Per il resto è evidente che se dovessimo trovare anche ragazzi positivi, immagino che qualcosa verrà fuori, soprattutto per le ultime classi. ragazzi che magari in questo periodo hanno partecipato a spettacoli, discoteche, eventi vari. È chiaro che in quel caso bisogna fare i test sierologici, magari a tutta la classe, a tutti quelli che hanno avuto contatti con il ragazzo. Ora capiamoci bene, è chiaro che nel momento in cui il governo ha aperto tutto, dobbiamo imparare a convivere con il Covid, ma un conto è convivere, un conto è essere irresponsabili, perché per convivere dobbiamo rispettare rigorosamente le regole, mascherina sempre, lavaggio delle mani sempre e controlli rigorosi. Quindi è bene dire anche ai ragazzi che non è il caso di fare i fenomeni, perché il Covid fa male, la malattia quando arriva fa male e fa male non solo quando viene, ma anche per quello che ti lascia dopo, perché ci sono in molti casi dei danni permanenti che si determinano per l'apparato respiratorio, quindi non è una cosa banale, dunque bisogna stare attenti e rispettare le regole. In queste condizioni possiamo affrontare con serenità anche l'anno scolastico.